Siamo dalla team Modav, il team più titolato di Jesolo con Fabio Paoleschi e la nostra pilota La questione è questa, il dice che il choix dei cartoni di capitan, far rullare una figlia, rappresenta un po' per te, e cosa puoi dire su questo? Io sono fredda di poter vedere come pilota femminile, perché non c'è molto, e questo mette in valore il fatto femminile Vuol dire che ha detto la parola giusta, ha detto che sono molto orgogliosa di poter gareggiare in una squadra con i maschi, e mette in valore la gente femminile Perfetto, è giusto che in una società che vuole aprirsi sempre di più anche alla parte femminile il racing sia colorato di rosa Grazie a Luis e grazie al team Modav, Fabio adesso tocca a te, vinciamo o non vinciamo? Speriamo Speriamo Vinceremo, no? Speriamo, ma ci sono anche tante squadre che possono vincere, NAC Team, PFW, Infinity, Cat Evans, molto forti, i belgi, molto molto forti Sono stati molto bravi, grande qualifica, primo stint Sì, sì, sarà molto molto difficile Allora, dopo quasi tre ore di gara, ancora non sappiamo chi vince Eh sì, e purtroppo è così Grazie Ciao 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 Ciao